L'ASIS Salernitan a rete di impianti SPA comunica che, a causa della mancata fornitura di acqua ai serbatoi comunali, dovuta ad un guasto sulla rete di adduzione, domani, martedì 23 maggio, dagli ore 6 alle ore 22, salvo imprevisti, il servizio di fornitura idrica agli utenti sarà sospeso. Si invita dunque a rifornirsi delle quantità d'acqua strettamente necessarie e non eccedere con le scorte. L'ASIS da parte sua approfonderà il massimo impegno affinché gli inevitabili disagi siano ridotti al minimo. Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito è possibile telefonare negli orari d'ufficio al numero 089 3058 557.